Oggi alle 18.30, su iniziativa del sindaco Nocenzo Leontini e del presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ricca, collaborati dall'ex assessore ed ex consigliere comunale Giuseppe Corallo, presso l'Aula Consigliare di Palazzo Bruno si terrà la cerimonia di ricollocazione di due alto rilevi dello scultore Salvo Monica. I due alto rilevi donati dall'artista al comune di Ispica si trovavano nell'Aula Consigliare, furono rimossi durante i lavori di restauro di Palazzo Bruno e oggi, dopo essere stati oggetto di restauro conservativo, verranno ricollocati nell'Aula Consigliare. Il nostro direttore Piero Giunta ne ha parlato con il presidente del Consiglio Comunale Ispicese Lorenzo Ricca. Ascoltiamo. Allora presidente Lorenzo Ricca, oggi pomeriggio i due alto rilevi del maestro e scultore Ispicese Salvo Monica, nella loro naturale bellezza, ritornano nell'Aula Consigliare di Palazzo Bruno. Questo è un modo per valorizzare l'arte e ricordare un figlio illustre della nostra città. A lei la parola, presidente Ricca, spieghi anche il significato artistico di questi due alto rilevi. Grazie Piero per avermi concesso questa intervista. Un saluto ai nostri concittadini che sono alle ore 18.30. Vi sarà l'inaugurazione di due pannelli decorativi collocati all'interno dell'Aula Consigliare di Palazzo Bruno. Si tratta di due alto rilevi in gesso patinati in terracotta ed oggetto di recente restauro conservativo, ad opera del nostro concittadino e scultore Salvo Monica. Detti pannelli, di misura 1,50 per 1,50 ciascuno, sono disposti in modo da sembrare un unico pannello raffigurante la vendemmia e la raccolta dell'arancia, che oltre a rappresentare il nostro territorio, simboleggiano i lavori e l'economia locali di un tempo. È stata volontà condivisa da me, in veste da Presidente del Consiglio e dal Sindaco Innocenzo Leontini, e grazie alla preziosa collaborazione dell'amico Giuseppe Corallo, la scelta di ricollocare le opere nell'Aula del Civico Consesso, al fine di omaggiare otterronmente l'arte di uno dei figli più illustri di Ispiga. Consentimi, Piero, di usufruire ancora del tuo invito e della tua disponibilità per invitare anche chi dei nostri concittadini è interessato a partecipare all'evento alle ore 18.30 presso l'Aula Consigliare. Grazie. Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale di Ispiga, Lorenzo Ricca, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.